Apprezzo tutti coloro che quest'anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette. Ha scritto Kate Middleton nella lettera, essere il vostro colonnello rimane per me un grande onore e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla cerimonia di quest'anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti. Ha concluso la principessa, firmandosi colonnello Katrin.